L'informativa è volta a garantire l'omogeneità sul territorio nazionale dei prezzi delle polizze assicurative relative alla responsabilità civile auto. La deputata Michela Rostan ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego collega. Grazie Presidente. Da anni un'odiosa discriminazione si consuma sull'importo delle polizze assicurative. Per il solo fatto di essere residenti in una regione piuttosto che in un'altra, un'automobilista a parità di profilo paga molto e molto di più. Ovviamente ad essere discriminati, anche in questo caso, sono sempre le regioni del Mezzogiorno. Nel corso della passata legislatura fu approvato un emendamento denominato Tariffi Italia, una tariffa unica nazionale per gli assicurati che non avessero fatto incidenti per cinque anni consecutivi. Quell'emendamento portava anche la firma dell'attuale Ministro Di Maio, oltre che dal Presidente Fico. Fu però poi soppresso al Senato. E allora noi oggi vogliamo chiedere al Governo se e in che modo intenda proseguire una battaglia per porre fine ad una discriminazione, una sperequazione che consideriamo intollerabile. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro ha facoltà di rispondere per tre minuti. Prego Ministro. Grazie Presidente e colleghi deputati. Rispondo all'interrogazione sempre sulla base degli elementi forniti dal Ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro delle politiche sociali. La legge per la concorrenza del 2017 nel novellare il codice delle assicurazioni private ricava una serie di disposizioni finalizzate al contenimento dei costi non efficienti del sistema delle RC auto, da una parte, e al contrasto delle froide assicurative, dall'altro. In particolare era stata prevista l'applicazione di speciali sconti per l'installazione delle cosiddette scatole nere a ricorrere di specifici requisiti di polizza. Inoltre nel corso dell'iter parlamentare della predetta legge era stato entresì proposto un emendamento firmato proprio dall'attuale Ministro Di Maio, come gli interroganti ben ricordano, volto a premiare gli automobilisti virtuosi, prevedendo una tariffa equa e media più vantaggiosa su tutto il territorio nazionale. Non si può quindi non confermare in questa sede come sia un preciso obiettivo di questo Governo eliminare con celerità ogni tipo di discriminazione in materia di polizze RC auto. In tal senso si sta cercando di individuare una soluzione che possa contemperare sia l'interesse degli assicurati virtuosi ad un premio contenuto, sia quello delle compagnie ad individuare in un'ottica antifrode la corretta responsabilità in caso di sinistri. Al termine di tali valutazioni tecniche, la soluzione individuata sarà oggetto di un apposito provvedimento con cui prevedere un'integrazione dei casi in cui le compagnie assicurative saranno obbligate a praticare uno sconto assicurativo in favore degli assicurati virtuosi, in quanto non si ritiene giusto che chi non commette sinistri paghi tariffe più alte in ragione della propria residenza. Grazie Presidente. Grazie a lei. A facoltà di replicare la deputata Michela Rostan per due minuti. Prego. Grazie Presidente. Prendiamo atto della risposta del Governo, così come prendiamo atto anche dell'assenza del Ministro Di Maio, che evidentemente non vuole più metterci la faccia su un impegno che aveva assunto in precedenza. Segnaliamo intanto che noi abbiamo depositato una proposta di legge sulla tariffa unica nazionale che ci auguriamo possa essere presto calendarizzata, per misurare col voto gli impegni che sono stati assunti, e non soltanto in quest'Aula, ma anche in diverse sedi di propaganda, perché proprio il Ministro Di Maio qualche tempo fa ha diffuso un video sui social che è stato molto seguito, ha ricevuto tanti clic, una battaglia vera contro la discriminazione territoriale delle tariffe per l'RC auto. Ecco perché noi ci aspettavamo ed anzi ci aspettiamo fatti concreti. Vedete, il tema è molto semplice. Se ci fosse libero mercato in materia, nulla a questio. C'è invece un obbligo di legge. E allora se c'è un obbligo di legge, lo Stato ha il dovere di verificare eventuali effetti distorsivi del mercato e dunque di intervenire, perché non è possibile penalizzare automobilisti virtuosi delle regioni del Mezzogiorno, di Puglia, Calabria e Campania, e far pagare a loro il peso di sinistra e di ipotesi di frodi che non si è capaci di impedire. Ecco perché noi pensiamo che la tariffa unica nazionale sia la risposta più giusta, perché è una misura di buonsenso, di equità e soprattutto di giustizia che è in grado di produrre anche tre effetti positivi. Innanzitutto di innescare condotte virtuose, di far diminuire il numero di coloro che non si assicurano proprio per le cifre esose e soprattutto di garantire introiti fiscali allo Stato. E allora noi ci auguriamo che il Governo intenda procedere su questo tema velocemente, senza più tentennamenti e senza cambi di rotta, ma soprattutto senza dare ascolto alle lobby e ai grandi gruppi di interesse che sono particolarmente sensibili, perché non può essere più tollerabile in alcun modo l'applicazione di un parametro che abbia come riferimento il comune di residenza del nord o sud del Paese. Allora adesso le forze politiche di maggioranza ci dicano da che parte stanno, dalla parte dei cittadini o da quella dei grandi gruppi di interesse. Grazie. Grazie.